Lounge Bar Beethoven, caffetteria, drink, stuzzicheria, piatti caldi. Con la nostra nuova gestione stiamo riportando il Bar Beethoven agli antichi splendori, rendendolo il punto d'incontro per ogni età. La specialità dei nostri cornetti, sapremo coccolarti e prenderti per la gola nella pausa pranzo con piatti davvero gustosi. Ti accoglieremo nell'elegante cornice della sala interna o esterna, dotate di ogni comfort. Un'offerta sempre più ricca, colazione veloce, caffè o cappuccino o espressino, più cornetto, più spremuta, 4 euro. Beethoven Night, le nostre proposte della settimana. Lunedì, serata bollicine, prosecco più stuzzichini, 5 euro. Martedì, Happy Hours vino, 6 euro. Mercoledì, Happy Hours free, stuzzichini più bevanda, 5 euro. Giovedì, serata spritz party, 5 euro. Venerdì, puccia o piadina o panino più bevanda, 5 euro. Sabato, pre-serata Beethoven, 3 euro e 50. Domenica, serata tè o cioccolato più pasticcini, 2 euro. Cibo, relax e sano divertimento con la qualità, la professionalità, l'eleganza e la convenienza che ci contraddistinguono. Ti aspettiamo in via la caita uno tanto. Per noi, ogni cliente è unico e speciale. Benvenuto per noi! Grazie a tutti!